eccoci eccoci siamo live con la prima puntata di questo talk summer edition in compagnia di Leonardo Menini e Davide Giovanzana ciao Davide ciao ciao Leo ciao a tutti benvenuti benvenuti prima puntata è primo agosto di questo talk diciamo in versione ridotta vi teremo compagnia per questi cinque giorni prima poi di andare in vacanza Davide coincide questo talk in versione ridotta con l'arrivo a Milano probabile a questo punto ma molto probabile di Charles de Ketelar che dovrebbe arrivare questa sera a Milano dovrebbe atterrare atterrare o a Linate o a Malpensa poi insomma avremo indicazioni in merito e domani iniziare l'iter per diventare un nuovo giocatore del Milan quindi visite mediche donità sportiva e firma del contratto a casa Milan cinque anni per lui due punto due dovrebbe essere suo il suo ingaggio poi ci darei bene tu e trentacinque milioni la cifra complessiva invece sei felice dopo due mesi di trattative e telenovela? Sì diciamo che questo weekend ha seguito un po' no quelli che sono stati i due mesi di trattativa visto che l'arrivo di The Ketelar continua a essere posticipato no doveva essere ieri doveva essere ieri sera o poi oggi stamattina o giuomeriggio invece sembra che arrivi stasera 2.2 lui forse 2.3 35 complessivi si parla di 32 di bonus cioè scusami 32 di base fissa 3 di bonus con una percentuale sulla rivendita circa del 12 12,5% mi pare e sì diciamo che sono molto contento di accogliere finalmente il belga dopo diciamo dopo sì dopo due mesi perché due mesi due mesi sono praticamente il tempo che è passato due mesi di trattative e due anni che che la dirigenza in particolare Maldini Massare e Moncada lo hanno seguito il ragazzo non si è allenato nelle nell'ultima settimana e mezza insomma per anche per forzare un po' la mano anche l'allenatore del Bruges aveva parlato in merito ha detto lo teniamo fuori per evitare i rischi e tutto la trattativa è stata è stato avanzato il ragazzo sarà sicuramente felice stasera vedremo poi come come si presenterà ai tifosi più precisamente poi domani no quando avrà tutto tutto quell'iter di cui parlavamo prima è il colpo un po' dell'estate è il colpo dell'estate nel senso che il Milan è l'unica squadra appunto che paga un giocatore una cifra importante perché sarà uno degli acquisti più onerosi sicuramente dell'era di Elliot ma in generale nella storia del Milan dovrebbe entrare in top 10 è tanta pressione addosso per questo ragazzo Davide no? Sì tanta tanta pressione è stato pagato tanto però il ragazzo ha dimostrato se che secondo me può reggerla la pressione perché comunque ok che giochi a Bruges ma giocare la Champions League a determinati livelli e fare una delle tue migliori prestazioni contro il Manchester City proprio come è successo è indice del fatto che il ragazzo mentalmente c'è mentalmente pronto anche l'aver giocato tanto a tennis da piccolo ti aiuta no sotto questo punto di vista a reggere la pressione diciamo a lavorare di test tra l'altro si unirà probabilmente al gruppo di Stefano Pioli mercoledì e il gruppo di Stefano Pioli che oggi e domani non ha allenamenti perché il mister ha dato due giorni liberi alla squadra dopo la trasferta diciamo molto positiva del Pelotron. Esatto di cui di cui poi parleremo perché sabato 6 agosto ci sarà l'ultima amichevole l'ultima partita della pre-season prima di iniziare questa Serie A con Milano Udinese il 13 di agosto tante indicazioni anche dalla partita di ieri poi poi parleremo anche di quello però rimanendo e per concludere su appunto su Charles de Ketelar ti volevo chiedere ma tu dove lo vedi perché mi spiego il ragazzo ha giocato in praticamente tutti i ruoli dell'attacco ha giocato a sinistra ha giocato al centro ha giocato a destra e ha giocato punta prevalentemente punta in realtà nell'ultimo anno dove ha segnato infatti 18 gol ha fatto più gol degli altri anni giocando da punta giocatore molto duttile giocatore che si inserirà sicuramente bene negli schemi di Stefano Pioli un altro giocatore molto duttile come Yassin Adli come lo stesso Diaz insomma il Milan ha fatto di questi giocatori la sua fortuna tu dove lo vedi perché io personalmente lo vedo trequartista chiaramente che il suo ruolo che è quello di cui abbiamo parlato per un anno intero della mancanza del Milan di un giocatore insomma di quel calibro in trequarti però insomma a destra non che sia scoperto numericamente però qualitativamente stuzzica un po' tutti il tridente no Leao Adli o Diaz che si voglia e Charles de Ketlar a destra io lo vedo lì con qualche apparizione siccome a seconda delle necessità anche da prima punta perché la stazza fisica ce l'ha allora nonostante parto così nonostante Pioli e Ruoli facciano rima e il Milan di Pioli è una squadra che ormai da quasi due anni a questa parte non ha dei ruoli precisi davanti abbiamo visto intercambiarsi tantissimi giocatori in tantissime posizioni anche ieri esatto anche ieri cioè l'unico praticamente che gioca fisso in un ruolo Rafa Leao che gioca a largo a sinistra quindi mi aspetto di vedere mi aspetto di vedere testato de Ketlar nella prima parte di stagione ovvero quella prima del mondiale sia da trequartista che da esterno di destra poi quando si tornerà dal mondiale la stagione comincerà a riallinearsi un pochino verso diciamo la normalità allora sarà lì secondo me che vedremo veramente dove Stefano Pioli ha intenzione di far giocare de Ketlar stessa cosa con con Divoco Righi secondo me vedremo il vero Righi non è una questione di ruolo qui è una questione più di di preparazione vedremo il vero Righi anche lì dopo dopo il mondiale. Eh ma secondo te a proposito di di Righi riuscirà a fare uno spezzone di partita al 6 o sarà pronto per la panchina al 13 cosa danno cosa dicono le indicazioni da Milanello? Io credo io credo che come ha fatto con Simon Kier cioè di di del ritorno di Simon Kier se ne parla ormai da due settimane doveva giocare uno spezzone con lo ZTE in Ungheria doveva giocare uno spezzone con il Wolfsberger in Austria non ha giocato ha giocato ieri qualche minuto contro il Marsiglia è tornato in campo dopo il bruttissimo infortunio di di Genova vedremo più o meno lo stesso modo superandi secondo me con Righi ovvero non lo vedremo in campo il 6 con il con il Vicenza difficilmente lo vedremo in campo secondo me per la prima di campionato perché a parte che Olivier Giroud è in forma in forma campionato forma campionato siccome l'anno scorso aveva segnato nell'amichevole contro il Nizza quest'anno praticamente segno in tutte le amichevole è veramente in gran forma e Stefano Piagli lo sta utilizzando tanto lo sta utilizzando per i soliti 55 60 minuti lo tiene anche lo tiene anche un po' di più secondo me per fargli prendere il ritmo partita visto che fuori difficile l'infortunio comunque non è stato leggerissimo diciamo però il giocatore è sempre a Milanello anche quando non si allena in gruppo e li segue la squadra nelle trasferte comunque è entrato di entrato ormai a far parte del gruppo del gruppo allora Davide due cose poi prima di chiudere la prima ovviamente la partita di ieri perché Marsiglia Milan al velodrome ha in un velodrome tutto esaurito più di 60 mila tifosi abbiamo sentito anche qualche fischio insomma in direzione dei nostri giocatori francesi ma insomma a parte questo un 2 a 0 abbastanza rotondo un primo tempo dominato un primo tempo con i titolari a mio avviso tranne che in tre quarti perché ha giocato Rebic ha giocato Diaz nel secondo tempo invece sono subentrati Leao e Adli però un secondo tempo chiaramente più sottotono dato che sono entrate tutta una serie di riserve ovviamente da sottolineare il ritorno in campo come detto tu Davide giustamente prima di Simon Kier dopo otto mesi dall'infortunio dell'uno di dicembre contro il Genoa un Simon Kier sorridente un Simon Kier che sta recuperando la condizione migliore e indicazioni dai singoli Davide perché insomma ci sono stati due gol due bei gol devo dire soprattutto il primo il primo un'azione corale insomma degna del miglior piolismo chiamiamola così in gol Messias che ha fatto insomma un'ottima partita prediti qualche singolo perché insomma tra i migliori in campo mi viene mi viene da dire appunto mi viene da dire Messias lo stesso Giroux comunque Benasser che è in crescita un Teo che è già straripante che ha pure parlato a fine partita che ha detto mi sento meglio dell'anno scorso fisicamente un Teo straripante e una coppia di centrali che Davide insomma non non smette di stupire e continua a collezionare clean sheet come insomma come Sostromone e Tine diciamo. Allora ti do qualche semaforo rosso e qualche semaforo verde. Il primo semaforo rosso che ti do è per Marsiglia non è mai stata diciamo la mia piazza preferita storicamente con il Milan abbiamo già avuto qualche particolare un po' strano. Ieri non mi è piaciuto assolutamente l'ambiente al velodrome caldo quanto volete fischi sia per il Milan sia per la squadra sia per la squadra di casa anche un po' polemico per la prima puntata del talk però Davide ok che è estate dovremmo essere tutti un po' più tranquilli però quando ho visto quell'entrataccia inamichevole di Aishak Touré mi pare entrato da praticamente cinque minuti ok con amichevole ok che magari con 65 mila persone c'è un po' più carico tranquillamente tranquillamente evitabile. Hanno in panchina comunque Igor Tudor semaforo verde secondo me per Junior Messias e secondo me quest'anno vedremo un Junior Messias diverso rispetto a quando abbiamo visto. Beh ha fatto la preparazione questo cambia Davide primo 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 ho fatto la preparazione l'anno scorso è entrato in gruppo praticamente a settembre inoltrato se non dopo ha fatto anche qualcosa di diverso rispetto a quello che faceva l'anno scorso ha cercato più volte di lanciarsi in profondità i compagni secondo me anche lo stesso Calabria si stanno già trovando meglio con quello che fa perché l'anno scorso l'anno scorso c'è stato insomma qualche non diverbio però su questioni di campo non si non si sono capiti spesso su quella fascia quindi mi prendo Messias ha fatto un gol che più che l'azione corale secondo me il gesto del singolo perché con quello stop praticamente segna e poi comunque la palla con una palla che rimbalza di piattone di sinistro devi comunque metterla sotto l'incrocio non è facile segnali positivi da Ternandez anche lui sembra essere entrato in forma in praticamente neanche cinque giorni di allenamento coppia di centrali ormai super collaudata anche se un difensore per riempire la rosa sul mercato serve ecco un po' per le condizioni di Simon Kier mi hai dato l'assist un po' perché il buon Matteo Gabbia che anche ieri è entrato e giocato ha fatto anche un tiro insomma da fuori ara veramente pericoloso però il buon Matteo Gabbia sembra essere in direzione direzione Sampdoria ora la mia domanda è chiaro che il Milan stia cercando un difensore centrale per puntellare la batteria appunto di centrali sul tacuino c'è ancora Jeff Tanganga con il quale insomma il Milan sta cercando di trattare con il Tottenham ma non è l'unico non è l'unico perché negli ultimi giorni è riuscito il nome di Diallo del Paris Saint Germain che tra l'altro in un ipotetico scenario di mercato libererebbe anche forse lo spazio per in rosa per Milan Skinner ma queste sono questioni che non ci riguardano Oddio che non ci riguardano Sì ci riguardano in parte però insomma va bene lo affrontiamo oggi è un po' più freddo è un po' più sullo sfondo il nome di Indica ecco tutto fa presumere che il Milan possa dopo l'arrivo di De Ketela raffondare il colpo su Tanganga Sì diciamo che sono tanti gli incroci con il Paris Saint Germain questa estate si parla di Diallo potrebbe liberare il posto a Skriniar ma si parla anche a centro campo è andato via praticamente Winaldi un ufficiale quasi ufficiale alla Roma libererebbe il posto per Renato Sanchez altro obiettivo che sono tanti sono tanti incroci un difensore come ho detto prima Leo secondo me serve e non credo che il Milan cioè questo è un mio sentitore non credo che il Milan non credo che il Milan vada su di Aro la situazione centrale serve un innesto a livello numerico per chiudere la rosa perché la coppia ce l'hai è una coppia che verosimilmente adesso non so bisogna vedere anche Caloulu andrà al Mondiale secondo te? questa è un'altra bella è un'altra bella questione non lo so la Francia è piena di centrali molto 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 forti però con la stagione che ha fatto Pierre Caloulu e con potenzialmente la prima parte di stagione che potrà fare secondo me Deschamps un pensierino ce lo farà bisogna vedere questo bisogna vedere come starà Simon Kier se riuscirà a recuperare il ritmo soprattutto per una prima parte di stagione a ritmi forsennati visto che si giocherà praticamente una volta ogni tre giorni serve un acquisto per chiudere a livello numerico come ho detto mi aspetto più un acquisto alla Tanganga quindi un prestito con quello che sarà probabilmente un diritto di riscatto e non un obbligo che poi è la diatriba insomma tra Milan e Tottenham per il difensore il difensore che sta aspettando il Milan perché le offerte ce le ha sì le ha soprattutto la Premier Davide e al Milan piace anche per insomma i costi contenuti potrebbe essere un'operazione un'operazione alla Tomori la mia idea è che mi lascia un po' perplessa l'eventuale cessione di Gabba nel senso che per me il Milan dovrebbe presentarsi con cinque difensori centrali per qualunque tipo di emergenza di situazione soprattutto se hai un Simon Kier che devi un attimo valutare l'entrata di Tanganga libererebbe lo spazio per Gabba via la Samp e lì resteresti con quattro poi insomma vedremo quali sono le scelte del Milan non parleremo oggi di Renato Sanchez che insomma avevamo detto venerdì l'ultimo giorno che eravamo in onda che avrebbe deciso in questo weekend ovviamente Renato Sanchez ancora non ha deciso ne parleremo probabilmente domani mentre seguiremo le visite di De Ketteler in chiusura Davide ti faccio commentare perché è uscito insomma uno speciale su Dazon Inside Milan con le interviste sia al mister Stefano Pioli molto emozionato devo dirti la verità sia al capitano al nuovo capitano di questa stagione Davide Calabria che anche lui ha mostrato tutta la sua emozione insomma indossare la fascia di capitano lui è al Milan da ormai 15 anni come ha detto lui ti leggo qualche pezzo poi me lo commenti soprattutto quello del mister perché è stato emozionante vedere tutto l'entusiasmo dei nostri tifosi tante maglie del Milan tante foto mi sono goduto ogni momento ma la cosa su cui mi volevo focalizzare è su insomma su questa domanda perché il mister dice all'esterno nessuno aveva una buona considerazione del Milan e abbiamo usato questa cosa come motivazione io l'ho usato tanto con i ragazzi forse anche troppo li chiedevo sempre come mai nessuno crede in voi come mai nessuno crede che noi possiamo vincere il campionato facciamoli vedere che si sbagliano ecco questo per me è il passaggio più importante secondo te si sta un po' ripetendo la stessa situazione quest'anno il mister la potrà usare di nuovo a suo favore oppure come ha anche detto dopo bisogna cercare di non montarsi però la testa allora si sta ripetendo un po' la situazione lo scorso anno sì secondo me a causa dei colpi dei cubi di teatro di mercato soprattutto Lukaku soprattutto Pogba e Di Maria anche se Pogba non ha cominciato benissimo diciamo ma anche un giocatore come Di Bala che a Roma può spostare tanto si sta un po' ripetendo perché le prime griglie comunque sfida Inter-Juve duello Inter-Juve il Milan indietro che segue due mesi per arrivare al giocatore belga manca ancora qualcosa da fare sul mercato vedremo a fine mercato io credo che comunque a differenza dello scorso anno e il Milan lo sta dimostrando durante questi amichevoli e infatti secondo me vedrai che già dopo la dopo sia l'amichevole con il Vicenza che la prima di campionato la narrazione potrebbe potrebbe già cambiare e Piolin è sicuro lo ha dimostrato nell'intervista allora Davide siamo siamo quasi in chiusura in chiusura ti do ti do una chicca che sicuramente che sicuramente saprai insomma Olivia Giroud nell'intervista ha ammesso di aver insegnato ai suoi figli due cori tra cui chiaramente siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi ma anche siamo venuti qua su per vedere e segnare Giroud insomma l'ha detto in coro quindi non è il coro per Cialanoglu quello che ha insegnato no non ancora quello non l'ha potuto dire a telecamere devono raggiungere una determinata età credo ai 16 magari all'inizio non si dicono quando sono così piccoli si dicono le parolacce allora Davide nel ringraziarti io rinnovo l'invito a continuare a seguire ovviamente Radio Rosso Nera in questa settimana perché usciremo in versione sì ridotta ma ci saremo perché documenteremo le visite di Charles de Ketelar oggi vediamo oggi dovremo riuscire a insomma a vedere il suo arrivo a Milano e da qui fino al 7 di agosto ci sarà alle 10 della mattina obbligo di riscatto come avete visto e alle 16 questo appuntamento qui il Talk in Summer Edition dove facciamo il riassunto della giornata in questo momento chiaramente il mercato la fa da padrone ma c'è stato anche il campo quindi Davide ti ringrazio e ci vediamo domani grazie a te Leo grazie a tutti mi raccomando domani stessa ora ci trovate sempre qui sempre qui alle 16 sul canale YouTube di Radio Rosso Nera ciao